Ciao a tutti e bentornati sul canale! Mi avete chiesto in tantissime di fare delle ricette che fossero gluten free ma anche vegan quindi vi ho accontentato subitissimo e partirò appunto oggi da delle colazioni. Vi faccio vedere tre colazioni che sono poi anche le mie tre colazioni preferite. Io non sono né vegan e né soffro di celiachia però mi piace sperimentare, provare nuove cose e devo dire che queste ricette sono davvero ottime e non hanno nulla da invidiare a quelle appunto classiche. Partiamo appunto da quest'ultimo, dal muesli al cacao Allora, 180 g di avena senza glutine, 160 g di mandorle tritate leggermente, 25 g di cacao amaro mescolate prima gli ingredienti secchi, aggiungete anche un pizzico di sale che ci sta bene poi ci aggiungiamo quelli liquidi, ossia 80 g di sciroppo di agave o in alternativa un altro tipo di dolcificante e 60 g di olio di cocco. Utilizzo l'olio di cocco perché questo una volta che si raffredderà il muesli addenserà e quindi ci aiuterà a creare un muesli un po' più croccante però potete provare con un'altra tipologia di olio Metto il mio muesli su una teglia con carta forno e vado a metterlo in forno per circa 20 minuti a 180 gradi mescolando di tanto in tanto. Una volta raffreddato diventerà bello croccante Attenzione a non bruciarlo perché essendoci il cacao non si vede bene quindi mi raccomando mescolate spesso così eviterete di bruciarlo Allora, questo io lo mangio con lo yogurt, con il latte di soia, con la frutta fresca insomma, davvero lo utilizzo in tanti modi anche per fare delle basi per le torte quindi è davvero ottimo poi lo potete conservare all'interno di un barattolo ermetico Allora, passiamo ai pancakes davvero semplicissimi perché occorrono solamente tre ingredienti Allora, utilizzo per questi pancakes una farina senza glutine che è la farina di grano saraceno questa la prendo all'Eurospin e devo dire che è molto buona ho provato a fare anche una pizza poi magari se volete la ricetta fatemelo sapere ci metto un mezzo cucchiaino di lievito 200 ml di latte di soia come dolcificante utilizzo sempre l'agave potete anche mettere lo zucchero se preferite, non è un problema e di agave ne metto circa 2-3 cucchiai in base a se li volete più dolci o meno dolci e alla fine ci vado a mettere all'interno dei ribes potete utilizzare anche i mirtilli oppure magari potete utilizzare della frutta essiccata come per esempio i mirtilli secchi oppure magari le gocce di cioccolato va un po' a vostro gusto devo dire che i pancakes con i ribes dentro sono davvero molto buoni che danno quell'acidità giusta ad un composto dolce per fare i pancakes voi sapete padella antiaderente per le crepes mettete il composto fate fare le bolle dopodiché potete girare e cuocere dall'altra parte ormai li ho fatti talmente tante volte i pancakes che penso che sappiate a memoria il procedimento e voilà i miei pancakes ai ribes e alla farina di grano saraceno sono pronti sono morbidissimi davvero ragazze dovete assolutamente provarli anche se non siete vegane o se non avete problemi di glutine perché sono veramente ottimi allora passiamo alle crepes anche queste davvero semplicissime da fare ho semplicemente utilizzato una farina senza glutine che io preparo in casa attraverso un mix però potete anche tranquillamente utilizzare la farina senza glutine in commercio poi ovviamente se volete sapere come la faccio fatemelo sapere ci metto all'interno anche 3 cucchiai in più di amido di mais che aiuterà ad addensare un po' il composto e circa 3 cucchiai di olio di cocco allora l'olio di cocco lo metto da denso come potete vedere perché ha un peso differente da metterlo liquido quindi mi raccomando non lo sciogliete mettete 3 cucchiai di olio poi ci mettete sempre 3 cucchiai di sciroppo di agave o altro dolcificante metto anche un po' di estratto di vaniglia e iniziate a mettere all'interno 100 ml di latte di soia mescolate in modo tale che il composto essendo duro va a sciogliere l'olio di cocco poi ovviamente andate ad aggiungere altri 300 ml di latte di soia deve venire un composto molto fluido proprio deve essere completamente fluido e niente, cuocete tranquillamente le vostre crepes sulla padella per le crepes come si fa di solito anche questa colazione è pronta queste sono buone farcite con la crema di nocciole con la marmellata ma anche semplicemente con un po' di zucchero a velo frutta o con un po' di sciroppo di agave poi grazie alla presenza dell'olio di cocco si sente tantissimo e davvero sono particolarissime quindi se vi piace il cocco dovete assolutamente provarle allora ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto fatemelo sapere giù nei commenti io aspetto sempre i vostri commenti e ovviamente lasciatemi anche un like iscrivetevi al canale se siete nuove se siete appena passate di qui mi raccomando e vi aspetto anche su Instagram mi trovate sotto il nome di Jennifer Pignatelli o le ricette di Jennifer vi mando un bacione e alla prossima ciao ciao